La pelle dei morti non assorbe più. Finiti gli interscambi, la flessibilità della barriera. Quello che avviene sotto avviene al chiuso ermetico, ti taglia fuori. Il morto è già incassato nella pelle prima che in zinco e legno. Quello che avviene sotto chiamano l'inespugnabilità del totalmente sono. Fu perché non seppero più essere un lascito vivente che volsero i marsupiali. Si portavano appresso i morti maleodoranti e inutili, i quali si consumavano senza peraltro perdere peso. Fu perché non seppero più mettere in oblio le ossa dei morti, né tacerne per sempre i nomi che arrancavano sotto quel carico. Si narra che a Pompei, durante uno degli spettacoli nell'anfiteatro, gli elefanti li condotti per essere uccisi non attaccarono gli uomini, ma sollevarono al cielo le proboscidi e tra i lamenti si misero a girare in tondo, impressionando fortemente il pubblico. Secondo la tradizione hindù, gli elefanti un tempo erano dotati di ali. Lo schiavo indiano crollò sulle ginocchia quando vide gli elefanti nell'arena, muoversi in cerchio, alzare i loro lamenti, senza reagire all'attacco degli uomini. Seppe così che Pompei era perduta. Quei barriti convocavano le nuvole più fosche del vulcano, non importava in quanto tempo Pompei era perduta. Ignoravano gli stolti cittadini che una volta gli elefanti erano alati, strettissimi congiunti delle montagne, un cerchio sacro di 18 animali mandati a morte. Pompei era perduta. The Tweeter After è un sito che elenca gli ultimi tweet scritti da persone che poco dopo sono morte. Twitter, come noto, significa cinguettio. Il mio testo è un assemblaggio di parti tradotte in italiano di alcuni di questi ultimi tweet, con in più qualche elemento di invenzione. Assemblaggio che prova a ricalcare la struttura del canto della lodola, rinvenuta in rete dagli appunti di un compositore ricercatore. Cinguettii Mattino ventoso, mi sembra pericoloso allenarsi all'aperto. I morti vivono, i morti vivono, i torti stridono, con dei colori autentici. Dei morti in attesa vivono, vivono. Ora di partenza prevista? Sempre. Mia mamma e Dio, passato, adios, grazie, fine, liberare, non ho parole ultime. Liberare il passato per riposare, liberare il passato per riposare, liberare il passato per riposare, liberare il passato per riposare. Liberare il passato davvero, davvero, vivremo, vinceremo. Dove il passato appena finito aspetta? Dove sempre? Spettacolo gradito, legno, sono andato, sono finito. Della prima stesura sono merda, aspetta, angelo legna a riposare, angeli o legna a riposare, angeli o legna a riposare, angeli o legna, sono via ora, vinceremo, vinceremo, legna vinceremo, legna vinceremo, legna vinceremo, legna vinceremo, legna vinceremo, legna. Sto aspettando di fare un angiogramma. In vita. Una vita. Una vita. Una vita. Una vita. Una vita. 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 Assaggiate finalmente le ostriche. Finito. Vita. 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 Più profondamente passato. Un fanculo a tutti. Passato. Passato.